Una cena semplice ma un po' diversa dal solito. Salsiccia con patate accompagnata da peperone ripieno di feta. Per prima cosa sbricciolo la feta, aggiungo poi dell'origano, un po' di olio crudo e mescolo bene con una forchetta. Lascio da parte e taglio un peperone in tre parti rimuovendo tutti i semini all'interno. Se avete i peperoni a cono ancora meglio. Li farcisco con la feta che abbiamo preparato prima. Prendo poi una teglia e aggiungo un foglio di carta forno. Piazzo la mia salsiccia arrotolata al centro e dispongo a fianco i peperoni farciti e qualche patata. Condisco le patate e la salsiccia con del rosmarino. Aggiungo abbondante olio extravergine d'oliva in superficie e una bella presa di sale. Dritto in forno ventilato a 190 gradi per circa 20-25 minuti. Et voilà, la mia cena semplice ma golosa è pronta. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate.